Benvenuti, ben ritrovati alla festa della Toscana. Anni fa si parlava di abolizione di pena di morte, oggi si parla di un'altra lotta, quella contro l'hate speech, quella contro linguaggi di odio che si trovano in qualsiasi campo. Allora, il manifesto per la comunicazione non ostile è la nostra prima pietra di questo pomeriggio. Non ci deve essere differenza di genere, di colore di pelle, di etnia, di razza. Questo è il patto e il testimone che ci dobbiamo passare. Oggi noi ci prendiamo un impegno di essere noi i primi ad utilizzare parole differenti e firmiamo questo manifesto. Vi chiederei di fare lo stesso. La linea che va dall'abolizione della pena di morte a l'hate speech è una linea lunga. Ma dobbiamo tenere la mano ferma e continuare a tracciarla, se necessario all'infinito quella linea, perché è una linea stessa della nostra libertà, della nostra civiltà, direi della nostra vita. Ci abbiamo un messaggio di Caliducco Libali, sentiamolo insieme. Dopo episodi di Firenze-Napoli, quello che mi è successo, mi sono molto documentato sulla Toscana e ho saputo che è una grande regione di cultura, di arte e per questo io non pretendo nessuna scusa da parte di Toscani e di Fiorentini. E spero di vedervi molto presto. Vi auguro una buona giornata, una buona festa della Toscana. Arrivederci. Ciao, ciao. Le parole sono pietre. Pietre che possono colpire, pietre che possono far male, pietre che possono rinchiuderci all'interno di muri, ma pietre che possono costruire ponti. E dipende da noi e non dagli altri. Davide Paolino, TG Lercio. Massa Carrara, mamma apprensiva attraveste il figlio da cantiere per assicurarsi che il nonno non lo perda di vista. Luca, bimbo non piange, è la morte della madre di Bambi e viene assunto all'Agenzia delle Entrate. E chiudiamo con un aggiornamento arrivato in redazione proprio in questo istante. Livornese, progressista, visita la Torre di Pisa. Ed è tutto per questa edizione. Ci riteniamo per parti con una nuova... No, grida qua, grida qua. Grazie a tutti. È compito nostro decisivo fare in modo che libertà ed eguaglianza vivano insieme. Perché quando libertà ed eguaglianza vivono insieme, allora l'odio non ha più spazio. Dobbiamo essere orgogliosi di questa Toscana. Io l'ho scoperto non da giovanissimo, ma che eravamo il primo stato al mondo che ha arrivato la pena di morte. Siamo famosi per tante cose meravigliose di arte e così via, ma questa mi sembra la cosa più bella. Questo quindi, omaggio alla Toscana. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate And if they can learn to hate They can be taught to love